E' arrivata la vittoria con il Livorno, la prima della stagione, grazie soprattutto a due vecchietti del Pescara-Cocco, segnato una doppietta, e Campagnaro che al novantatresimo è come se avesse segnato un gol, quel salvataggio sulla linea è stato fondamentale. Ma sono cose che succedono dentro la partita, però io sono contento per come è andata in generale, al di là delle occasioni singolari, però ha fatto bene la squadra, secondo me come gruppo, ha gestito bene anche il vantaggio, al di là dei che hanno segnato, hanno fatto un bel gol loro, anche senza errori da parte nostra, però a merito loro, sono riusciti a segnare, però abbiamo gestito molto bene la partita che l'anno scorso magari facevamo fatica, quando eravamo in vantaggio, a riuscire a portare a casa i punti. Quest'anno dovrebbe andare meglio, siamo molto organizzati e bisogna continuare così. Ora stai bene, hai fatto tutta la preparazione con i tuoi compagni, ma ti aspettavi di giocare con il Livorno e quando hai saputo che saresti sceso in campo? Ma no, aspettarmi di giocare o meno no, sono stato disponibile anche la prima giornata, che è quello che devo fare io, devo essere a disposizione dell'allenatore, poi se mi fa giocare o meno non è importante, è importante che si facciano i punti come si stanno facendo, delle belle prestazioni e niente, immaginavo in settimana magari perché mi ha provato verso la fine con le squadre più o meno dei titolari, però non avevo la conferma fino al mattino quando lui dà la formazione. Però niente, ormai questa cosa qua non è importante per me, quello che devo fare io è essere sempre disponibile e dare una mano. Firmeresti per giocare 25 partite in questa stagione, se te lo chiedessero oggi? Ma 25 partite, così non è importante quante, sicuramente un bel numero per avere 38 anni. Io devo dare una mano sempre, anche quando non sono a disposizione per giocare, però se riesco a fare 25 partite per me sarebbe un numero ottimo. Ma qual è l'obiettivo del pescare in questa stagione, Ugo? Perché siete partiti a fari spenti, si parla di salvezza, però questa squadra è una squadra di valore, che ha dei valori tecnici importanti. Sì, ma al di là di quello, quello che dichiari non è che se tu dici giochi per la salvezza dopo andrà a finire così. Tu fai il massimo ogni partita, adesso abbiamo fatto un pareggio e una vittoria, e niente, dobbiamo giocare a vincere tutte le partite. Poi quello che si dice non è che quello ti limita a fare più punti, nessuno te lo vieta, se dopo tu vai e vinci giochi per altri obiettivi. Magari se cerca di tenere i piedi per terra e non fare tante aspettative, però quello che dobbiamo fare noi è cercare di vincere tutte le partite. L'ultima, Ugo, sarà questo l'ultimo campionato per te da giocatore? Non lo so, dipende di come sono messo fisicamente. Se io vedo che mi posso gestire e sono disponibili tante partite, non vedo perché non continuare.